Cerchiamo di capire un pochino come si usa il modello grande segnale, facciamo un esempio per capirlo, in realtà il modo d'uso è molto simile a quello che abbiamo visto per il diodo e quindi vedete sarà abbastanza facile da verificare. Però vorrei sottolineare soltanto una cosa, è il fatto che è sempre importante fare le prove perché l'intuito aiuta fino a un certo punto, vediamo in che caso. Consideriamo questo circuito, c'è un transistor bipolare di tipo NPN, quindi questa è la base, questo è il collettore e questo è l'emettitore e poi immaginiamo di avere due resistenze. Una che alimenta la base, un'altra alimenta il collettore e poi invece l'emettitore è collegato a massa. Allora, cominciamo a chiarire un pochino di cose, se io disegno una cosa del genere, metto questo nodo e ci scrivo Vcc, sto sottintendendo che c'è una batteria di valore Vcc tra quel nodo in massa. E' il nodo che è chiamato massa, questo è il sottinteso, non si scrive di solito ma insomma per semplificare. Un'altra cosa che magari è utile che vi dica, c'è una sorta di convenzione per cui le tensioni più alte si scrivono in alto, si disegnano in alto, quando si disegna un circuito è un po' complicato, le tensioni più alte si disegnano in alto, quelle più basse in basso, quindi Vcc è la tensione di alimentazione positiva, la massa se la disegno come ultimo nodo più in basso, perché sottintendo che è la tensione più bassa del circuito. Non è una convenzione obbligatoria, è solo un modo per migliorare la leggibilità del circuito, quindi poi vedrete che non è veramente sempre rispettata. Allora, mettiamo un po' di valori e immaginiamo che sia questa la situazione, RB sia 300 kg, RC sia 2 kg, Vcc sia 10 volt. E per fissare il comportamento del transistore immaginiamo che βf sia 100, questi sono i dati. Allora, dobbiamo trovare il punto di riposo, quali sono le tensioni e le correnti, l'attenzione terminali e le correnti nel dispositivo. Allora, come al solito dobbiamo fare un'ipotesi, immaginiamo di fare l'ipotesi che sia in zona attiva diretta. Va bene, ecco probabilmente quella più ragionevole. Ora, perché dico che è ragionevole dire che è in zona attiva diretta? Ma vedete, per come è collegato il transistor, Vcc è una tensione alta, sono 10 volt. Da Vcc scorre una corrente attraverso RB e poi scende giù all'emettitore, quindi la base sarà a tensione più alta dell'emettitore. Quindi ragionevolmente l'aggiunzione a base emettitore sarà polarizzata direttamente, con la base a tensione più alta dell'emettitore. E questo è ragionevole fare quell'ipotesi. L'altra è un pochino meno ovvia, è quella di dire, beh, se seguo l'altro percorso attraverso l'RC, parto a tensione alta, Vcc scendo attraverso l'RC, arrivo prima al collettore, poi all'emettitore. Quindi anche la tensione tra collettore e emettitore sarà positiva. Questo me lo posso aspettare. Punto è, sarà più alta o più bassa di Vcc sat? Della tensione che mi delimita il comportamento in saturazione del transistor? Io questo non lo so. Quindi effettivamente guardando il circuito posso essere indeciso tra una situazione in cui il transistor è in zona attiva diretta, oppure una situazione in cui il transistor è in zona di saturazione diretta. Queste sono le due opzioni. Tutto dipende da quanto vale Vce, perché poi l'ordine delle tensioni è più o meno imposto dal circuito. Va bene? In questo caso io faccio l'ipotesi, non so cosa scegliere tra le due. Devo dire la verità, guardando l'RC così piccola viene in mente che effettivamente la caduta su l'RC possa essere abbastanza più piccola di quella su Rb e quindi magari la tensione sul collettore è più alta di quella della base, ma non è scontato. Questo bisogna fare i conti. Comunque, di sicuro io sono incerto tra zona di saturazione diretta o tutta zona attiva diretta. Dipenderà dal valore di Gucce. Allora, facciamo l'ipotesi che sia in zona attiva diretta. Allora, se è in zona attiva diretta io procedo a sostituire al transistor il comportamento in zona attiva diretta. Quindi ho tra base ed emettitore una batteria di valore VbEON e tra collettore e emettitore un generatore di corrente beta Fb dove VbE è la corrente di base. Ok? Quindi questa è l'espressione. Immaginiamo che VbEON valga 0,6. Questo si trova sulle caratteristiche di un datasheet di un transistor 0,6 volt. Per questo punto è il circuito, è un circuito lineare, possiamo risolverlo facilmente. Per esempio posso trovare quanto vale il B. Il B è uguale, è la corrente in Rb, no? Quindi è uguale a Vcc meno VbEON diviso Rb. Quindi sarà 10 meno 0,6 diviso 300 per 10 alla terza. Quindi sono 9,4 diviso 300 fa 31 microamperi. Ok? A questo punto IC, questa corrente, so quanto vale, IC sarà beta Fb. Quindi trascuro il termine IC0, tanto l'IC0 è molto molto piccola, sarà qualche picco ampere, quindi trascurabile rispetto a questi microamperi. Mi rimane soltanto beta Fb che è 100 per 31 microamperi e fa 3.1 milliampere. Ok, a questo punto posso ricavare la Vce, la Vbe è inutile che la calcola, so già l'ho imposta, la Vce posso calcolarla ed è Vcc meno la caduta di tensione su Rc. Quindi è 10 volt meno Rc che è 2 kg per 3.1 milliampere, fa 6.2 volt, 10 meno 6.2 fa 3.8 volt. Ok? Adesso devo fare le verifiche sulla zona di funzionamento. Quali sono le verifiche che devo fare? Ieri l'ho scritta, prendiamola un attimo. Devo verificare le cose che non sono implicite nella scelta del generatore. Vedete, devo verificare che Vce sia maggiore di VcSat e che le due correnti siano positive. Allora vado un attimo indietro e verifico. Dunque, Vce è maggiore di VcSat, VcSat è quindi 0.2 volt, quindi sì, ok? E anche i B e i C sono positive, sì. Quindi effettivamente la verifica della zona attiva diretta è stata effettuata. effettivamente l'ipotesi di partenza va bene, ho trovato il punto di riposo. Ok? Ho trovato il valore di corrente di collettore, di base, la Vce, la Vbe del transistor. Chiaramente sono risultati approssimati perché ho utilizzato un modello linearizzato del circuito. Però va bene come prima approssimazione. Poi a fare un conto più preciso facciamo sempre in tempo usando un simulatore circuitale. Ok? Va bene. Allora, per farvi vedere che effettivamente non è così scontato, vi vorrei far... Facciamo una modifica piccola a questo circuito e supponiamo per esempio che l'RB invece di essere 300 kg sia 150 kg. Ok? Giusto una modifica minima. Io vorrei far vedere che con questa modifica così piccola le cose già non tornano più. Mentre qualitativamente non è cambiato niente, no? Però quantitativamente la cosa basta per alterare tutto. Facciamo un attimo, possiamo farlo rapidamente, tanto abbiamo soltanto cambiato un componente. Esempio 2. Stesso circuito. Ma con RB uguale a 150 kg. Allora, che succede? Facciamo l'ipotesi che sia in zona attiva diretta. A questo punto devo ripetere il calcolo che ho fatto prima. Cos'è che cambia? Vedete? Questo è il calcolo di prima, no? Cos'è che cambia? L'IB sarà il doppio di prima perché l'RB è dimezzata. Quindi invece di 31 microamperre troverò 62 microamperre. Quindi avrò IB uguale a 62 microamperre. Poi IC è beta F per IB. E quindi invece di 3.1 milliampere viene il doppio. Viene 6.2 milliampere. E a questo punto VCE, che è VCC meno RC per IC, che è il calcolo che ho fatto prima, però stavolta è raddoppiata. E quindi qui mi viene 10 meno 2 per 6.2. Vedete? Finita. Qua mi viene meno 2.2 volt. Chiaramente non è verificata, no? Quindi l'ipotesi non è verificata. Mi deve venire maggiore di GUCC e SAT, mi viene addirittura negativa. Quindi è evidente che non torna. Ok? Quindi questo che vuol dire? Che l'ipotesi di transistor in zona antiridiretta non è verificata, non è realistica. Devo cambiare ipotesi. Ok? Quindi questo mi serve soltanto per sottolineare il fatto che l'intuore aiuta solo fino a un certo punto, perché, insomma, gli stessi ragionamenti che ho fatto per dire che il circuito precedente era in zona antiridiretta li ho fatti per dire che questo è in zona antiridiretta. Tutto sommato l'RB è sempre molto grande, è cambiato solo di poco. Ok? Però non basta. Quindi che cosa dobbiamo fare? Un'altra ipotesi, l'altra ipotesi è quella che vi dicevo prima, l'altra opzione, che il transistor sia in saturazione diretta. diretta nel senso che con VC è positiva. Allora, qui che cosa succede? In saturazione diretta dobbiamo disegnare un nuovo circuito, c'è RB, c'è RC, questa è la base, questo è il collettore, tra base e emettitore c'è una VB e ON, e tra collettore e emettitore c'è una tensione VCSAT, dove questa è l'IB e questa è l'IC. Quindi i vincoli sulle tensioni sono imposti dal circuito equivalente, no? Abbiamo due batterie, quindi le tensioni sono quelle, e vediamo quanto viene il B. Il B è come prima, di fatto non è cambiato niente, quindi è sempre 62 microampere, perché la VB e ON è la stessa, e il C invece è un pochino diversa, perché devo fare VCC meno VCSAT, diviso RC, viene quindi 10 meno 0,2 diviso 2 kilom, quindi l'EC mi verrà in milliampere. Il 9,8 diviso 2 fa 4,9 milliampere. Ok? Allora, adesso devo fare delle verifiche, se vi ricordate le verifiche, prendo il circuito che ho disegnato l'altra volta, devono essere le correnti positive, e anche il B deve essere positivo, qui era implicita nella seconda che il B fosse positivo, e poi il C deve essere più basso, il beta F e il B. Allora, andiamo a controllare, le correnti vengono positive, ovviamente sì, il C maggiore di 0, il B maggiore di 0, e il C è minore di beta F e il B, beh, beta F e il B è uguale a 62 microampere per 100 che fa 6.2 milliampere. Quindi effettivamente è vero che è minore, e quindi questa ipotesi è verificata. Ok? Quindi questa è l'ipotesi giusta, le correnti le abbiamo trovate, le abbiamo risolto in circuito, in modo approssimato, ma l'abbiamo fatto. Ok? Quindi questo è il ragionamento che facciamo. Va bene. Come abbiamo fatto per il diodo, una volta trovato il punto di riposo, possiamo fare un altro tipo di linearizzazione che è una linearizzazione al primo ordine, cioè un'espansione di tellora al primo ordine delle caratteristiche intorno al punto di riposo. E questo è quello che si chiama circuito equivalente per il piccolo segnale. Allora, lì com'è che ragioniamo? Innanzitutto ci mettiamo in questa configurazione, configurazione emettitore comune, l'ingresso dalla base uscita dal collettore e poi consideriamo questo sistema a due porte e lo linearizziamo. Quindi a quel punto abbiamo la porta d'ingresso che è, in questo caso, VBE e corrente IB, una porta d'uscita che corrisponde alla tensione VCE e alla corrente IC. Chiaramente questi sono valori totali di tensione corrente, quello che ci serve è una relazione tra le differenze, tre piccoli segnali. Quindi com'è che facciamo? Sulle caratteristiche di uscita IC in funzione di VCE avremo, per esempio, queste sono le caratteristiche di uscita, daremo in posto il punto di riposo e intorno al punto di riposo facciamo un'espansione al primo ordine. Quindi sulle caratteristiche di uscita che facciamo? Abbiamo una certa IC che è funzione della tensione d'uscita e della corrente nella porta d'ingresso e questa la linearizziamo e poi linearizzeremo anche le caratteristiche di ingresso che mettono in relazione la corrente e tensione nella porta d'ingresso in funzione della tensione sulla porta d'uscita. Allora, vediamo di far prima questo. Qui com'è che procedo? Faccio esattamente la stessa cosa che ho fatto nel caso del diodo, cioè dico, beh, questa cosa qua la posso scrivere come una componente costante più una componente variabile e sarà uguale a che cosa? Alla IC, che è la funzione, che scrivo in funzione di VCE che descrivo come parte costante più componente variabile e poi la corrente IB più IB piccola. A questo punto faccio l'espansione al primo ordine che consiste nel dire prima metto il termine di ordine 0, quindi la funzione C di VCE grande e IB grande e poi metto i termini di primo ordine. Quindi la derivata parziale di C in funzione di VCE quando la variazione di VCE è 0 e la variazione di IB è 0 per VCE per lo spostamento rispetto al punto di riposo alla VCE costante più il secondo termine qui ho due la IC dipende da due quantità nel caso del diodo era da una sola qui sono due quantità quindi devo fare due derivate parziali. derivata di C rispetto a V a IB quando VCE piccolo uguale a 0 e IB piccolo uguale a 0 questo vuol dire nel punto di riposo con la rispondenza dei valori di tensione corrente VCE e IB uguale alla sola quantità costante per la variazione rispetto al punto di riposo vedo qui cosa è successo perché mi fa si è ridotto ok per la variazione rispetto al punto di riposo che è IB ok allora questa roba qui è IC grande e quindi si semplifica vedete questo se ne va via con questo questa roba qui che cos'è? è la variazione della corrente d'uscita rispetto alla tensione d'uscita ok questa è una quantità che è quella che si chiama una conduttanza differenziale dell'uscita e la chiamiamo HOE perché è uno dei parametri H HOE sta per l'HO del circuito parametri H che abbiamo già visto anche insieme questo e in più si riferisce al fatto che siamo in configurazione a emettitore comune ok quindi questa è una conduttanza differenziale differenziale di uscita quindi la conduttanza perché ovviamente dimensionalmente è una conduttanza è di uscita perché quindi in relazione le due grandezze di uscita l'uscita è a differenziale perché è ottenuta come derivata e questo qui invece è un è quello che si chiama HF no? è la corrente d'uscita rispetto alla corrente d'ingresso quindi questo si chiama tipicamente HFE è quello che chiamiamo HF nel modello parametri ibridi ed è la relazione tra corrente d'uscita e corrente d'ingresso anche in questo caso il pedice E sta a significare che è il stiamo considerando il transistor in configurazione a emettitore comune questo si chiama anche guadagno di corrente guadagno differenziali di corrente in inglese è forward current gain quindi riscrivendo in piccolo noi abbiamo IC piccolo uguale a HOE per WCE più HFE per ibridi questa è l'espressione possiamo fare la stessa cosa sulle caratteristiche di ingresso quindi vabbè facciamo così giro pagina vi scrivo come si chiama in inglese la stessa quantità questo è il forward current gain a volte forward differential current gain e questo è l'output conductance oppure output differential conductance ok va bene ripeto questo lo dovreste riconoscere esattamente una equazione del modello a parametri H di due porte è la stessa cosa l'unica differenza è che stavolta i C e WC sono le correnti di tensione di uscita i B sono le correnti di ingresso ok possiamo fare il ragionamento analogo sulle caratteristiche di ingresso per trovare l'altra equazione le caratteristiche di ingresso si scrivono così di solito VBE in funzione di IB e WCE e le caratteristiche di ingresso spesso si rappresentano in questo modo VBE in funzione di IB a volte le trovate anche IB in funzione di VBE quindi questo è effettivamente un po' variabile e poi per diverse VCE vedete IB in funzione di VBE è una caratteristica di un diodo e a variare di VCE all'aumentare di VCE IB scende un po' perché aumenta il beta F però le curve sono praticamente tutte sovrapposte diciamo VCE conta abbastanza poco sull'ingresso però il ragionamento che facciamo ovviamente è quello di dire VBE che scriviamo come VBE costante più piccolo segnale parte variabile è uguale a una funzione di che cosa? di IB che scriviamo con IB costante più parte variabile e VCE che scriviamo come VCE costante più parte variabile a questo punto facciamo un'espansione al primo ordine prima abbiamo il termine di ordine 0 quando la componente variabile è nulla e poi aggiungiamo i termini di ordine 1 quindi abbiamo la derivata di VBE rispetto a IB quando IB è piccolo è uguale a 0 e VCE è uguale a 0 per la parte variabile di B più la derivata di VBE parziale rispetto a VCE quando IB è uguale a 0 e VCE è uguale a 0 per la variazione di VCE ok allora questa roba qua è uguale a VBE grande e si semplifica e rimane una relazione che è lineare e che lega soltanto le parti variabili questa roba qui vedete che cos'è è la il rapporto tra variazione di tensione di ingresso e corrente di ingresso quindi la imperenza di ingresso la resistenza di ingresso perché siamo in continua ok quindi è la resistenza differenziale di ingresso e si chiama HE resistenza differenziale di ingresso questo si chiama anche in inglese input conductance o ovviamente anche input differential conductance spesso nei data sheet non è scritto in modo esplicito differential diciamo è sottinteso e no ho sbagliato input resistance non conductance scusate è la resistenza dimensionalmente input resistance e questa roba qui che cosa mi dice mi dice come la tensione di ingresso dipende dalla tensione di uscita questo si chiama HRE e è il guadagno di tensione inverso quindi perché guadagno tensione quindi chiaramente il rapporto di tensione è inverso perché il rapporto tra tensione di ingresso e tensione di uscita e mi dice come l'ingresso dipende dall'uscita è il solito parametro HR del modello a parametri ibridi e questo si chiama reverse voltage gain che questo è differenziale ok quindi mettendo tutto insieme trovo VBE piccolo è uguale a HIEIB più HRE VCE la forma è quella che abbiamo visto un sacco di volte nel caso di due porte a parametri H se imitiamo tutto insieme quindi modello parametri H è fatto così IC è uguale ad HFE IB più HOE VCE questa era la prima equazione la seconda equazione mi dice invece che VBE è uguale ad HIE IB più HRE VCE questo posso scrivere anche in forma matriciale viene C VBE è uguale a HFE HFE HOE HIE HRE per IB VCE e questo vi semplifica ancora di più il fatto di riconoscere che si tratta di un modello a parametri quindi 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 questo modello a parametri H ha emettitore comune questo è utile sottolinearlo perché chiaramente se mettessi a comune un altro terminale otterrei un modello diverso parametri che hanno valori diversi quindi anche un significato diverso è abbastanza facile anche disegnare il circuito corrispondente perché avete l'emettitore a comune tra ingresso e uscita la prima equazione mi dice come la tensione d'uscita e la corrente d'uscita sono legate vedete mi viene IC è una somma di due termini quindi due rami in parallelo un termine è HFE B quindi è un generatore di corrente controllato da corrente il secondo termine è HE VCE quindi è una conduttante una resistenza di valore uno su HE quindi questo è il secondo pezzo il primo pezzo la prima equazione del sistema mi dà il pezzettino di circuito equivalente all'uscita la seconda equazione mi dà il circuito equivalente all'ingresso mi dice che questa tensione tra base e emettitore è uguale alla somma di due termini questo è un più due termini uno è HE IE IB che lo so disegnare facilmente perché IB è anche la corrente di ingresso quindi il primo termine è la caduta di tensione su una resistenza HE messa in ingresso il secondo termine è più HR VCE quindi è un generatore di tensione dipendente dalla tensione uscita quindi questo è l'effetto circuito a parametri ibridi è questo chiaramente è un circuito linearizzato vale solo in un piccolo intorno del punto di riposo una volta trovato il punto di riposo rispetto a quello intorno calcoliamo quelle quattro derivate parziali per trovare quattro parametri del modello vedete questo modello abbiamo visto un sacco di volte all'inizio quando abbiamo fatto un due porte diciamo è tornato spesso qui nel transistor si fa molto spesso ricordatevi che tutto sommato VBE dipende molto poco da VCE e in effetti questo termine nella maggior parte dei casi si trascura quando si trascura si trascura i calcoli a mano che quando si va a fare una simulazione con spice del circuito completo ci sono tutti i parametri quindi uno a mano fa un calcolo un pochino semplificato poi quando deve fare un calcolo più preciso usa tutti i parametri del modello in modo da avere un'espressione più precisa ok allora come si ottengono parametri di piccolo segnale noi abbiamo visto la definizione sono delle derivate parziali quindi diciamo se abbiamo un'espressione analitica delle quantità possiamo fare analiticamente la derivata e fare il calcolo in generale l'espressione analitica è abbastanza approssimata quindi diciamo è una cosa che utilizziamo se non abbiamo di meglio e spesso il grafico è un pochino meglio se abbiamo un'espressione sperimentale del grafico sperimentale delle caratteristiche possiamo estrarla anche da lì graficamente la derivata come si fa tanto per velocemente ribadire il punto tipicamente facciamo in questo modo noi se abbiamo le caratteristiche di uscita abbiamo i C in funzione di VCE queste curve fanno così immaginate che sia questo il punto di riposo io cosa posso fare queste sono i B costante le curve va bene quindi la derivata di C rispetto a VCE ai B costante non è nient'altro che la tangente alla caratteristica che è B costante nel punto di riposo quindi io devo misurare la tangente alla caratteristica del punto di riposo immaginate che sia questa linea tratteggiata rossa a questo punto devo calcolare la pendenza posso per esempio disegnare un triangolo rettangolo con i lati paralleli agli assi e quindi per esempio dire questa è delta i C e questa qui è delta VCE e quindi dire HOE è circa uguale a delta i C su delta VCE ora in realtà non è circa uguale è proprio uguale il discorso del circa è che dipende dal fatto che effettivamente quando misuro da un grafico queste quantità poi è facile che commetta un errore nella misura quindi non è un valore precisissimo ma è migliore di quello che si ottiene facendo la derivazione di un'espressione analitica perché l'espressione analitica è di partenza meno buona poi la derivata viene fatta in modo preciso però l'espressione analitica è di partenza approssimata l'altra quantità invece questo vi torna delta i C diviso delta VCE il fatto che sia fatta il B costante viene ottenuto perché io tiro fuori la tangente della curva il B costante se invece devo ricavare delta i C su delta i B il guadagno di corrente quello lo devo fare dei C su dei B AVC è costante quindi mi devo mettere AVC è costante qui non ho una curva continua ho i valori di C a intervalli discreti per valori discreti di B quindi cosa posso fare posso fare questa cosa dico vabbè prendo faccio la derivata come differenze come rapporto di differenze la variazione di B la prendo qua considerando due caratteristiche vicine quindi immaginate che questa qui sia i B3 e questa qui sia i B1 quindi delta i B è uguale a i B3 meno i B1 e poi la delta i C corrispondente la prendo qua è questa qui la chiamiamo delta i C1 per distinguere da quella i prima quindi HIE HF scusate è uguale in questo caso delta i C1 diviso i B3 meno i B1 ok questo è il vedete anche in questo caso i delta sono stati calcolati a parità di C a parità di Vc a Vc è costante ed è quello che devo fare perché devo fare una derivata parziale di i C su i B a Vc è costante ok quindi graficamente la cosa che si può fare è abbastanza facile in alternativa io posso fare il calcolo analitico e il calcolo analitico più o meno procede nello stesso modo vedete cosa sfrutto sfrutto il fatto che in zona attiva diretta dove sono i C la scrivo la scrivo come quantità totale quindi parte costante più parte variabile quindi la scrivo minuscola col pedice maiuscolo vi ricordate è uguale a beta F i B più beta F più 1 i C0 che è una costante quindi se io faccio la derivata di d i C su d i B intorno al punto di riposo mi viene beta F quindi la quantità HF piccolo è approssimativamente beta F ok questo ti c'è un'approssimazione in questo calcolo perché sto supponendo che beta F non dipenda dai B se è una cosa esattamente una costante quindi non dipenda per niente dai B in realtà un pochino ne dipende quindi un piccolo errore lo commetto anche in questo caso e l'altra cosa HFE invece per definizione è uguale a d i C su d v C anche qui se ricordo questa espressione vedete cosa è che abbiamo detto diverse volte posso trascurare il termine con il C0 che non conta però beta F aumenta l'aumentare di v C per l'effetto early quindi questo dipende da v C per l'effetto early e quindi io qui che cosa devo fare questo è fatto ai B costante pro beta F e questo diventa praticamente uguale a i B parte costante per d beta F su d v C questo lo posso scrivere come beta F per i B per 1 su beta F per d beta F su d v C questo perché perché questo beta F i B è i C e questa roba qui dimensionalmente è l'inverso della tensione di early cioè è l'inverso di una tensione ed è praticamente l'inverso della tensione di early quindi questo è uguale a i C diviso va una quantità quasi costante non è esattamente costante ma è quasi costante ed è in sostanza l'effetto della tensione di early e torna con quello che vi ho detto che la pendenza di quelle caratteristiche di uscita che è proprio l'HOE è la corrente divisa una tensione di early da qui da questa espressione si vede che non è detto che sia costante la tensione di early noi la consideriamo costante facendo un pochino di approssimazione ok quindi queste due sono quantità che si ottengono analiticamente con una leggera approssimazione le altre sono quantità che si ottengono graficamente quindi su dati reali modello già un pochino meno fedele alla realtà del dato reale se faccio lo stesso discorso per le caratteristiche di ingresso mi viene una cosa analoga in pratica io che devo fare devo dunque finiamo le caratteristiche di ingresso avrò vb in funzione di ib la curva è fatta così di solito viene data soltanto una curva per un certo valore di vc fisso perché tanto dipende poco da vc l'hr non lo considero non lo considero sempre nullo se questo è il punto di riposo sulle caratteristiche di ingresso la derivata di vb rispetto a ib avc è costante la ottengo tracciando la tangente alla caratteristica nel punto di riposo e andando per esempio a dire che questa qui è un delta vb e questo qui è un delta ib quindi faccio hie che per definizione è delta dvb su d ib calcolati nel punto di riposo scriviamo in q per farla più semplice quello lo posso scrivere come la variazione di delta vb rispetto a una variazione di ib tirate fuori disegnando la retta tangente questo viene abbastanza immediato ok hre faccio prima a considerare lo 0 se devo proprio fare un'approssimazione tanto vale la considerare lo 0 va bene dal modello come procedo dal modello se voglio andare a fare il calcolo analitico analitico quello è un pochino più difficile perché mi devo mettere in zona attiva diretta mi conviene usare il modello di abers e mall come funziona io ho la base poi ho qua il diodo di emettitore IED e diodo di collettore ICD e poi ho i due generatori controllati in particolare questo è alfa F IED e quest'altro è alfa R ICD allora in zona attiva diretta ICD è uguale a meno ICS vi ricordate? perché la tensione tra base e collettore è nulla e quindi IB a che cosa è uguale? scrivo l'espressione da qui IB è uguale a un po' di spazio prendiamocelo tutto IB è uguale a la componente IED ho questo meno questo quindi 1 meno alfa F per IED più avrei 1 meno alfa R per ICD che è uguale però A meno ICS quindi qui c'è un meno e anche qua mi viene un meno ok? ora IED dipende da VBE ora mi serve perché devo fare la derivata quindi questo è 1 su alfa R 1 meno alfa F per IES per E alla VBE su VT meno 1 meno 1 meno alfa R per ICS qui non so perché ho scritto un più questo un meno ok? allora adesso faccio la derivata devo scrivere HE è uguale a la derivata di qui mi conviene per come è scritto fare la derivata di IB rispetto a VBE e poi invertirla no? faccio la derivata di IB rispetto a VBE a VCE costante tanto qui la dipendenza VCE è già sparita e poi la faccio alla meno 1 ma semplicemente perché mi conviene far così tanto la curva è monotona posso farlo benissimo mi conviene far così perché è già scritta in questo modo quindi vedete se lo faccio qua mi viene 1 meno alfa F per IS diviso VB per E alla VBE su VT poi tutto il resto non dipende da VBE quindi non conta nella derivata sparisce ora che cosa posso dire? beh in realtà io posso dire guardate come è fatto il IB questo termine qui facendo un pochino l'approssimazione questo termine qui è praticamente IB perché vedete in sostanza guardate qua IB è questo no? però quando VBE vale VBE grande cosa succede? l'uno tanto è trascurabile rispetto all'esponenziale se siamo in zona attiva diretta anche l'altro termine è una corrente di saturazione quindi conta poco quindi fatto questa roba qui è IB grande diviso VT con un po' di approssimazione e quindi per esempio la scrivo ancora meglio come IB grande la scrivo come C sub beta F per VT ok? più o meno questa è una cosa che mi torna abbastanza comoda perché sono tutte quantità che conosco commetto un piccolo errore nel far così perché diciamo se B non è proprio piccolo se B è piccola aver trascurato quegli altri termini alla fine mi dà un errore però ripeto sono cose comode perché sono formule semplici che consentono di fare conti facilmente a mano i conti precisi si fanno poi meglio con il simulatore non abbiamo bisogno di fare conti precisi a mano intanto dobbiamo a mano abbozzare il circuito e poi quando abbiamo bisogno di un numero esatto utilizzare il simulatore circuitale ok? quindi cosa abbiamo visto abbiamo visto come è fatto un modello di piccolo segnale abbiamo visto che in pratica un modello che torna comodo utilizzare è un modello parametri H quello che usiamo tipicamente per un due porte e i parametri del modello si possono estrarre o graficamente facendo le derivate parziali diciamo dalle caratteristiche ingressi di uscita oppure utilizzando le espressioni analitiche che conosciamo e facendo le derivate di quelle d'accordo? queste sono le due cose che devono rimanere impresse dobbiamo essere in grado di fare tutte e due con l'idea che se abbiamo le caratteristiche grafiche utilizziamo quelle perché sono più precise anche se l'estrazione grafica sembra più imprecisa ma si parte da un dato di partenza migliore se invece non abbiamo le caratteristiche grafiche usiamo l'espressione analitica e che comunque viene abbastanza semplice da utilizzare anche se tutto sommato sarà meno precisa ok? va bene ecco come abbiamo detto per il transistor poi facciamo una pausa come abbiamo detto per il non per il transistor per il diodo anche nel caso del transistor dobbiamo considerare le capacità interne perché poi quando variano le tensioni e le correnti nel tempo abbiamo queste capacità interne che si scaricano e si caricano e quindi richiedono corrente per caricarsi e scaricarsi dinamicamente c'è da considerare anche quelle correnti quali sono le capacità interne di un transistor bipolare questo è facile perché abbiamo detto abbiamo due giunzioni abbiamo visto nel caso del diodo quali sono le capacità interne di una giunzione in questo caso ce ne abbiamo due quindi abbiamo la capacità interne di una giunzione e dell'altra ok allora quello che si utilizza tradizionalmente è un modello piccolo segnale che in pratica è un'estensione del circuito a parametri H ed è una estensione che include l'effetto delle capacità e si chiama tradizionalmente circuito di giacoletto perché diciamo questo giacoletto era un ricercatore bellabs che come si capisce è d'origine italiana che propose questo circuito in pratica consiste nel fare questa cosa nel dire io ho la base ho il collettore e ho l'emettitore va bene è un modello di piccolo segnale quindi ha emettitore comune come gli altri però parte da questa osservazione vi ricordate che abbiamo fatto questo disegno del transistor in sezione e lui fa un'osservazione che in realtà è particolarmente utile che è quella di guardate oltre a se vogliamo riprodurre in modo fedele il funzionamento del transistor questi sono i tre terminali collettore base ed emettitore dobbiamo fare questa considerazione c'è un transistor intrinseco che è questo questo blocchetto qua che ho disegnato vedete questo questo rettangolino contiene in sequenza le tre zone però la geometria complessiva del transistor è più grande di quello di cosa devo tener conto devo tener conto di altre tre resistenze perché c'è un percorso per arrivare dal contatto esterno fino al transistor intrinseco queste tre resistenze sono delle resistenze di ispressione attraverso il terminale che vanno considerate ok quindi il circuito già coletto considera queste tre ora nel caso un pochino più semplice ed è quello che usiamo noi conviene considerare soltanto la più grande delle tre quella che conta un po' di più che è quella della base perché è quella della base perché la base è lunga cioè il percorso della base è lungo e stretto e quindi tipicamente si porta a una resistenza maggiore il collettore è lungo ma è largo l'emettitore è stretto ma è corto invece il percorso della base è stretto e lungo e quindi diciamo naturalmente ha una resistenza maggiore ok allora noi consideriamo soltanto questo questa resistenza di dispersione in base la chiamiamo RB resistenza di dispersione della base in sostanza è la resistenza che va da contatto esterno al contatto intrinseco della base questo contatto intrinseco della base per comodità lo possiamo chiamare B' il contatto vero della base il resto è soltanto il cammino che serve ad arrivare al contatto esterno allora lui rappresenta qua B' tra B e B' mette la resistenza di ispressione in base ok poi quindi è come se spezzasse l'HIE in due pezzi un pezzo dall'esterno alla base intrinseca e poi dalla base intrinseca all'emettitore termine della base intrinseca all'emettitore lo chiamiamo RB' B' E così ci ricordiamo dove sta ok poi questa è VB' E poi che cosa fa considera le capacità a questo punto le capacità quali sono cioè una capacità dell'aggiunzione tra base e emettitore che è polarizzata direttamente perché in questo circuito si usa in zona attiva diretta essenzialmente questa la capacità tra base e emettitore è polarizzata è alta perché l'aggiunzione in base emettitore è polarizzata direttamente questa qui la chiama CB' E non è esattamente il nome che usa lui ma comunque noi la chiamiamo CB' E ok e poi c'è un'altra capacità tra la base e il collettore e questo considerando la base intrinseca e il collettore questa è una capacità della giunzione polarizzata inversamente che possiamo chiamare CB' C quindi queste due sono le due capacità delle due giunzioni CB' E è la giunzione tra base e emettitore che è polarizzata direttamente quindi la capacità è alta CB' C è la giunzione tra base e collettore che è polarizzata inversamente quindi la capacità è bassa quindi qui tipicamente questa è una cosa che è importante ricordare perché a volte è rilevante CB' E è molto più grande di CB' C perché la giunzione base emettitore è polarizzata direttamente e quella base collettore è polarizzata inversamente e poi ci sono gli effetti esterni ora lui per comodità che cosa fa tratta qui invece di mettere un generatore di corrente controllato a corrente mette un generatore di corrente controllato da tensione dalla tensione VB' E praticamente diciamo a nostri fini è la stessa cosa perché ovviamente Gm VB' E deve essere uguale ad HFE IB quindi vuol dire che Gm sarà uguale ad se scrivo questa cosa ad HFE no scrivo al contrario forse meglio vuol dire che in sostanza l'HFE sarà uguale al Gm per VB' E diviso IB ma VB' E diviso IB in continuo quando non passa corrente attraverso la capacità VB' E diviso IB è la resistenza RB' E quindi c'è una relazione tra HFE Gm e RB' E che è questa qua tra l'altro nel siccome HFE è circa uguale a beta F e RB' E è IC su beta F VT no sbagliato RB' E Sì faccio un piccolo RB' prima la resistenza differenziale è quella cosa che avevamo chiamato come quella cosa che avevamo chiamato prima HIE ed è quindi questo è VT diviso IC per beta F quindi Gm diventa IC su VT ok quindi Gm possiamo tacolare rapidamente proprio IC su VT allora e poi ci manca l'HOE lui in questo caso lo chiama RO esattamente uguale all'1 su HOE in pratica vedete rispetto al modello a parametri ibridi che cos'è che è cambiato c'è questa resistenza in più RB perché tiene conto il percorso per arrivare all'uscita e poi c'è ci sono le due capacità una resistenza in più le due capacità e vabbè posto il generatore di corrente controllato a corrente mettiamo un generatore di corrente controllato a tensione perché in questo caso torna più comodo più facile verificare esattamente qual è la tensione ai capi del transistor piuttosto che la corrente allora che differenza c'è tra questo circuito e l'altro beh questo circuito è necessario utilizzarlo quando le capacità non sono trascurabili se il transistore funziona a frequenze alle quali l'impedenza di quelle capacità non è molto grande rispetto alle altre impedenze presenti quindi se siamo a frequenze molto basse l'impedenza di quelle capacità è molto molto grande rispetto alle altre impedenze nel circuito quindi le capacità si possono rimuovere e allora ricadiamo nel modello a parametri ibridi e usiamo direttamente quello quando invece quelle capacità sono effettivamente da considerare perché hanno un'impedenza una frequenza considerata è un'impedenza tale da non essere trascurabili in parallelo rispetto al resto allora dobbiamo considerare la scelta dipende dal valore delle capacità e dalla frequenza a cui lavora della frequenza del segnale che ci interessa ok d'accordo io farei una piccola pausa adesso